Ultima giornata del campionato di eccellenza a Girone B. Il Rimini già da tempo non ha più nulla da chiedere in un torneo dominato. L'ultimo avversario è il Progresso, superato di misura l'andata. Ben 50 punti dividono le due compagini in classifica, con richiute compagni che più che doppiano gli avversari, 95-45. Anche i Rosso-Blu hanno già centrato il loro obiettivo stagionale, la salvezza. In casa Biancorossa senti gli infortunati Landi, Valori, Signorini, Righini, Cole e Gabrielli e lo squalificato Bacchiocchi. Torna a disposizione Valeriani. Prima del calcio d'inizio la squadra Biancorossa omaggia sotto la curva e con una maglietta celebrativa Marco Caruso, storico ultra del Rimini, scomparso 20 anni fa. La partita, al secondo schema su punizione per il Rimini, pallone Cicarevic che da centro aria alza la mira. Al dodicesimo buonaventura per Fabri che calcia da due passi, Albertazzi si salva in angolo. Al ventinovesimo il Rimini passa con un'azione da manuale, rifinita da Buonaventura per Cicarevic che prende la mira e infila il 7. 1-0. Al trentacinquesimo azione di sfondamento a destra del Rimini, Arlotti per Fabri che gira di prima, sfera lato. Al trentottesimo Arlotti e Guiebre duettano a sinistra, palla Buonaventura che alza la mira. Al quarantesimo Guiebre si mette in moto a sinistra. Scambio con Cicarevic che gli rende la sfera con un tocco di classe e diagonale largo di un niente. Al quarantatresimo ancora Guiebre sfodere il diagonale, questa volta deviato in angolo. Sugli sviluppi del conseguente corner, Nanni va al tiro di destro, Albertazzi blocca senza affanni. Si va all'intervallo con il Rimini avanti di un gol. Durante il riposo all'associazione Amici del Rimini Calcio consegna un assegno alle giovanili biancorosse. Al quarto della ripresa, cross violento di Rossi per la girata di Tani, pallone a lato di un niente. Al sesto, sugli sviluppi di un corner di Di Candilo, Gasparotto nel tentativo di liberare, manda di poco a lato, brividi per la porta di Scotti. Al nonne, le tiro di Barranca non va distante dal bersaglio. Al dodicesimo, crossa da sinistra per Rossi che calcia, sfera a lato di un niente. Due minuti dopo, Buonaventura si aggiusta la sfera al limite dell'area e va al tiro, deviato in angolo. Alla diciassettesimo, Tani sovrasta di testa a carne secchi. Scotti ribatte, Tani chiede il gol, ma per il guardaline la sfera non è entrata. Al ventesimo, Guiebre entra in area, ma anziché tirare tenta un dribbling di troppo. Buonaventura prova a risolvere, pallone fuori di poco. Al minuto ventune, il tiro di Arlotti, deviato da un difensore, chiama gli straordinari Albertazzi. Alla mezz'ora, Barranca parte da lontano. Salta in diagonale l'intera difesa biancorossa. E con un tocco morbido, supera Scotti. Gol stupendo e 1-1. La reazione di Biancorossa è immediata. Buonaventura cerca Cicarevic, la difesa ospita lontana. Al trentaduesimo, Ricchiuti, entrato con la maglia numero dieci nella sua ultima partita al Romeo Neri, imbecca Cicarevic, che spalanca la porta a Buonaventura, che non sbaglia. Due a uno e ventottesimo sigillo in campionato per il capocannoniere della Girone B di eccellenza. Al trentatresimo, Ricchiuti tenta il pallonetto dalla distanza, alto. Al quarantesimo, Buonaventura, messo in porta anziché tirare cerca Ricchiuti per il gol dell'addio. Il lob del Cico è corto. Al quarantaduesimo, il Rimini Caleltris, assist di Ricchiuti per Cicarevic, che dalla linea di porta completa la doppietta personale. 3 a uno e decimo centro in campionato per l'ex San Marino. Al quarantaquattresimo, Ricchiuti serve Guiebre, che va in gol, rete annullata per fuorigioco. Finisce 3 a uno per i Biancorossi, che chiudono il campionato a quota 98 punti in classifica.